Si è aperta oggi a Bologna la due giorni degli stati generali sul maltrattamento all'infanzia. 2017 alla manifestazione ha preso parte anche la garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano. Sentiamo allora una sua considerazione su quali sono le violenze più diffuse contro i minori. Le tipologie di violenza sono tante, declinate come violenza assistita, violenza psicologica, violenza materiale, maltrattamento, ma anche abusi sessuali. I dati degli abusi sessuali in particolar modo conducono l'Italia a un livello sottostima rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, ma questo potrebbe non essere un segnale necessariamente positivo, potrebbe significare invece che nel nostro paese c'è ancora molto mertà. Di questo fenomeno bisogna parlare, parlare e parlare.